buona giornata fratelli e sorelle oggi vi invito ad ascoltare un mio commento al capitolo 5 della lettera di giacomo che ho fatto per un incontro di catechesi degli adulti questo commento deriva da un contenuto video ma per il podcast ho pensato di suddividere questo incontro almeno in tre puntate perché ascoltare un audio di 45 minuti può essere faticoso se invece questo audio lo si suddivide in più puntate brevi penso che sia più facile l'ascolto un'altra attenzione che bisogna porre ovviamente è che quello che ascolterete è stato pensato per una esposizione in video quindi qualche limite ci potrebbe essere comunque vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon ascolto ho pensato di suddividere questo capitolo 5 in sei temi allora il primo tema l'ho intitolato contro i ricchi e le loro ingiustizie che sarebbero i primi sei versetti il secondo tema la costanza e l'essere costanti nei versetti 7 e 8 terzo tema la pazienza essere pazienti i versetti 9 e 11 poi il versetto 12 l'ho chiamato divieto di giuramento anche se qui si fa sempre l'accenno ad essere coerenti ad essere persone trasparenti cioè il famoso sì sia sì no sia no il quinto tema la preghiera e la sua potenza nei versetti da 13 a 18 e poi l'ultimo tema l'ho chiamato ricondurre alla verità i versetti 19 e 20 ecco allora cominciamo a vedere il testo del capitolo 5 della lettera di giacomo rispetto alle altre volte ho pensato che è meglio leggere tutto il testo alla fine di questa esposizione invece che all'inizio così magari leggendo tutto insieme una volta aver visto i singoli versetti tutto può ritornare alla mente e possiamo vedere quindi le cose in maniera più unitaria cominciamo a leggere questo testo come vedete il capitolo 5 inizia subito con una invettiva molto drammatica e dura nei confronti dei ricchi nei confronti delle loro ricchezze e contro le loro ingiustizie però per capire meglio questo brano forse è bene anticipare una tematica che troveremo espressa dopo nei versetti 7 e 8 cioè il tema della venuta del signore la cosiddetta escatologia dalla parola escaton che significa appunto le cose ultime vedete che nel versetto 7 nel versetto 8 si fa proprio esplicito riferimento alla venuta del signore siate dunque costanti fratelli fino alla venuta del signore e anche dopo si dice al versetto 8 alla fine perché la venuta del signore è vicina allora questo tema dell'escaton cioè delle cose ultime è un tema importante nella lettera di giacomo se qualcuno infatti nel passato come abbiamo visto in precedenza ha un po quasi ridicolizzato e sminuito il valore teologico della lettera di giacomo soprattutto per quanto riguarda la cristologia però appunto per quanto riguarda questa tematica escatologica il testo ci offre un contenuto forte allora diciamo un po qualcosa riassumiamo quello che riguarda questo tema dell'escatologia perché tra parentesi io credo che a noi cristiani oggi manca la riflessione profonda su questa tematica escatologica che invece nel nuovo testamento non solo è importante ma scusandomi un po il gioco di parole è proprio un'asse portante anche noi nella messa se ci fate caso dopo la consacrazione facciamo una professione di fede una mini professione di fede quando diciamo annunciamo la tua morte o signore proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta ora questa mini professione di fede quando la diciamo la messa ci passa e ci scorre non ci si fa più caso ormai diventa quasi una cosa automatica e meccanica però avete visto si fa riferimento all'attesa della venuta nel signore questo tema della venuta del signore purtroppo è un tema come dicevo che noi cristiani oggi rischiamo di mettere in secondo piano e allora qui vorrei fare vorrei dare un primo un primo stimolo un primo messaggio che vorrei appunto mandare stasera non rischiamo di considerare che la nostra fede sia soltanto una specie di contentino oppure soltanto un aspetto consolatorio e che voglia così alleviare le nostre sofferenze nel quotidiano e così come ad esempio quando magari andiamo anche in buona fede e con spirito buono andiamo da una persona che magari è un po in difficoltà e diciamo via su non ti preoccupare dai ce la faremo ce la farai o quando soprattutto nelle situazioni di lutto di persone che perdono appunto i loro cari e andiamo accanto a loro cercando un po di confortarli di risollevarli e questa è una situazione ed è un agire buono ci mancherebbe altro però la fede non è soltanto questo e se consideriamo la fede soltanto come questo aspetto consolatorio o come qualche cosa che riesca ad alleviare soltanto le nostre prove le nostre sofferenze umane rischiamo di ridurre tanto il contenuto forte che la fede invece ci proclama e allora la fede è molto di più è molto di più la fede ci parla del regno di dio che aspettiamo ci parla della venuta del signore che attendiamo e allora se entriamo in questa ottica le prospettive della nostra esistenza cambiano cambiano le prospettive dei nostri obiettivi cambiano le prospettive di quello che noi mettiamo al primo posto nella nostra vita nelle nostre scelte in un certo senso scardina le gerarchie dei valori che noi spesso umanamente ci costruiamo e dunque se è vero tutto questo il primo valore o presunto tale il primo aspetto che viene messo seriamente in discussione è proprio l'ambito della ricchezza pensate un po fratelli se ci venissero a dire che so io la settimana prossima il mese prossimo tutto finirà il mondo finirà a che serve aver accumulato tanti soldi a che serve avere ricchezze avere appartamenti avere macchine costose non servirebbe a nulla vi ricordate quella che non è una parabola in termine tecnico si chiama un esempio parabolico che gesù fa nel capitolo 12 del vangelo di luca i versetti dal 16 seguenti vi ricorderete la frase e tutto questo poi disse loro una parabola la campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante ed egli ragionava tra sé che farò poiché non ho dove mettere i miei raccolti farò così disse demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni poi dirò a me stesso anima mia hai a disposizione molti beni per molti anni riposa ti mangia bevi e divertiti ma dio gli disse stolto questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita e quello che hai preparato di chi sarà così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce presso dio questa è la prospettiva chi arricchisce per sé è questo uomo ricco però non mette in conto che la notte stessa la sua vita gli sarà richiesta e allora tutta la sua ricchezza tutta la fatica compiuta per mettere da parte a cosa serve ecco allora certamente questo brano è bellissimo e permettetemi se rileggo anche la parte la continuazione di questo brano perché è sempre un testo che veramente sconvolge per la sua semplicità e la sua bellezza dal versetto 22 quando dice poi disse ai suoi discepoli per questo io vi dico non preoccupatevi per la vita di quello che mangerete né per il corpo di quello che indosserete la vita infatti vale più del cibo e il corpo più del vestito guardate i corvi non seminano e non mietono non hanno dispensa né granaio eppure dio li nutre quanto più degli uccelli valete voi chi di voi per quanto si preoccupi può allungare anche di poco la propria vita se non potete fare neppure così poco perché vi preoccupate per il resto guardate come crescono i gigli non faticano e non filano eppure io vi dico neanche salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro se dunque dio veste così bene l'erba del campo che oggi c'è e domani si getta nel forno quanto più farà per voi gente di poca fede ma ritorniamo brevemente al tema della venuta del signore che appunto detta dal in termine greco parusia ho detto appunto prima che per noi forse questo rischia di diventare un tema secondario e non dovrebbe esserlo tanto è vero che nelle comunità cristiane primitive nelle prime comunità cristiane invece era un tema molto forte tanto che addirittura sembra che nei primi anni proprio nelle comunità cristiane primitive si attendesse la venuta del signore come qualcosa di imminente se vi ricordate anche san paolo nella prima lettera ai tessalonicesi che gli studiosi ci dicono molto probabilmente essere il primo testo scritto nel nuovo testamento al capitolo 4 san paolo dice non vogliamo fratelli lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza se infatti crediamo che gesù è morto ed è risorto così anche dio per mezzo di gesù radunerà con lui coloro che sono morti sulla parola del signore infatti vi diciamo questo noi che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del signore non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti ecco dunque che al versetto 17 dunque dice noi che viviamo e che saremo ancora in vita verremo rapiti insieme con le lo con loro nelle nubi per andare incontro al signore in alto e così per sempre saremo con il signore quindi questo testo ci fa capire che molto probabilmente anche san paolo all'inizio della sua esperienza di annuncio del vangelo pensava che il ritorno del signore fosse una cosa imminente ora fratelli mi verrebbe voglia di fare anche un po' un'altra parentesi pensate un po' fratelli quale doveva essere il pensiero dei primi cristiani forse è un pensiero che che avvolge anche noi credenti cioè anche a noi sembra impossibile che le altre persone non credano in gesù perché ci sembra una cosa ovvia anche noi spesso ci possiamo domandare ma come fanno le persone a non credere in dio a non credere in gesù come si fa non credere nell'evangelo alle parole di gesù a noi ci sembra almeno a me talvolta anch'io mi sono mi sono fatto questi pensieri ci sembra una cosa strana basterebbe basta dirlo come fanno a non a non credere e qui penso anche al dramma che deve essere per tante persone vedere che i loro congiunti purtroppo non seguono la nostra via della fede che dramma deve essere per tanti genitori quando vedono che i propri figli non seguono la fede che loro stessi hanno loro insegnato deve essere una cosa molto dolorosa per un genitore per un genitore credente ovviamente prendere atto che i figli rifiutano o non prendono in considerazione la fede nel signore gesù ma chiudiamo questa parentesi dicevo allora come a noi sembrerebbe un po scontato che si possa credere in gesù io ho l'impressione che anche gli apostoli anche i primi annunciatori del vangelo anche per loro doveva essere quasi scontato che a poco a tutti sarebbero venuti alla fede più che andare a dire che quel gesù morto in quella croce che tanti hanno visto appunto morire in croce quel gesù è risorto è vivo più prova di questa quindi io credo che anche loro mettessero in conto che la conversione di tutti i popoli alla fede nel signore gesù fosse tutto sommato una cosa che si reali che si sarebbe realizzata con rapidità da qui il fatto che l'avvenuta del signore poteva essere una cosa imminente perché quando tutti i popoli tutte le genti fossero arrivate alla fede a questo punto il signore sarebbe tornato a completare la la vicenda le vicende di questo mondo noi abbiamo celebrato la pentecoste nelle domeniche passate e lì luca ci dà un messaggio molto forte lui vede la pentecoste come la riunificazione di tutti i popoli in quell'unica fede in quell'unica lingua attraverso la quale possiamo rivolgersi a dio come un solo popolo in un certo senso si ricrea quella unione e comunione che doveva essere prima della torre di babele e invece a poco a poco anche i discepoli gli annunciatori del vangelo gli apostoli i successori degli apostoli fanno l'esperienza che la conversione delle persone alla fede sarà una cosa molto lenta molto drammatica molto lunga irta di problemi vi ricordate san paolo nella lettera ai romani dice quando gli ebrei arriveranno alla fede tutto il cerchio si chiude ma invece questa rapidità della conversione purtroppo rimarrà una chimera quindi appunto chiudendo il discorso da questo si capisce che molto probabilmente i cristiani si aspettavano che davvero i popoli arrivassero alla fede in gesù maniera molto veloce molto tranquilla e serena quindi per tornare a noi molto probabilmente anche Giacomo risente di questa tematica escatologica e risente anche del fatto che la venuta del Signore probabilmente anche lui la riteneva una cosa abbastanza imminente e ripeto il versetto 8 di Giacomo che dice siate costanti anche voi rinfrancate i vostri cuori perché la venuta del Signore è vicina allora perché ho fatto tutto questa introduzione lunga e pesante spero di non aver annoiato chi mi ascolta perché in questo clima di attesa imminente della venuta del Signore le parole contro i ricchi acquistano ancora più forza acquistano ancora più decisione sono veramente diventano veramente delle parole di fuoco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.